Grillo e già Roberto Casaleggio potrebbero arrivare a Roma domani. Un incontro a sorpresa non confermato dallo staff del Movimento 5 Stelle è già rinviato di una settimana dopo le polemiche con i parlamentari pentastellati sul posto di Grillo a proposito del reato di immigrazione clandestina, posti in cui il fondatore del Movimento si dichiarava contrario all'abolizione della Bossi Fini. Tanto Grillo annuncia che tornerà in piazza con un nuovo Vaffa Day probabilmente da Genova la prima domenica di dicembre. Vogliamo vincere le prossime elezioni, iniziare da quelle europee, scrive il leader degli 5 Stelle per impedirci di andare al governo dovranno mandare i carri armati.